Una sveltina, non usano mezzi termini i consiglieri regionali di Forza Italia, Sospiri e Febbo, per definire il tentativo della giunta d'Alfonso, per ora congelato, di abrogare la legge con cui la passata amministrazione regionale aveva sancito il taglio di 40 milioni di euro delle tasse. Una legge impugnata dal governo nazionale perché presa da un consiglio, quello scioltosi prima del voto di maggio, che era in regime di prorogazio e dunque non avrebbe potuto assumere quella decisione. Una foglia di fico, così, hanno definito la giustificazione dell'impugnativa i consiglieri di minoranza che hanno attaccato il centrosinistra tassa e spende come sua tradizione. Spende perché le promesse elettorali di D'Alfonso costano e perché bisogna coprire la compartecipazione ad un'altra gabbella imposta dallo Stato, quella del ticket sulle prestazioni sanitarie di riabilitazione. Nel cuore della notte si è tentato con uno squalido pezzettino di carta in apparenza anonimo di cancellare la riduzione di 40 milioni di euro di tasse agli abruzzesi. Il questo adducendo due motivazioni risibili. La prima che la legge sarebbe stata impugnata dal governo, impugnata non vuol dire che la legge non è più nella sua legittimità, si resiste all'impugnativa o perlomeno la si riapprova quando vogliono, anche oggi stesso, la firmasse il governatore D'Alfonso e gli abruzzesi non pagheranno 40 milioni di euro di tasse in più. La seconda è che questi soldi servono per fare altro ma anche questo non è vero perché comunque le necessità dichiarate dall'esecutivo di centrosinistra ieri in aula non ammonteranno a più di 5 milioni di euro, ne restano altri 28 che sono a disposizione per la riduzione delle tasse. La verità è che si vuole fare cassa di 40 milioni di euro da spendere come è costume del centrosinistra in una logica di clientela, tassa e spendi. Non si permettessero di riportarla nella forma in cui ce l'hanno portata perché non la proveranno mai in questi termini. Loro devono avere il coraggio, le direi agli abruzzesi, che a differenza del centrodestra loro non vogliono tagliare le tasse perché vogliono fare cassa di 32 milioni di euro da spendere come solo Dio lo sa.